Buongiorno, sono Rivieri Federico, responsabile della società agricola Corticella che fa parte del gruppo Cremonini, leader in Europa nel settore della macerazione dei bovini. Corticella rappresenta la prima azienda agricola fondata dal gruppo che gestisce gli allevamenti in tutto il nord Italia. In questo caso siamo nella sede principale di Spinamberto dove ci sono presenti circa 2000 capi e dove è presente ovviamente la macchina Faresin. Abbiamo scelto Faresin nel 2018, è iniziata una collaborazione perché c'era stata la volontà dell'azienda di standardizzare le macchine all'interno dei vari siti. Con Faresin abbiamo subito trovato un feeling e ci siamo capiti magari riguardo le esigenze delle varie stalle. Infatti le macchine sono di diverse conformazioni, da 16 a 24 metri cubi e in ultima è arrivata da 14 metri cubi per un piccolo allevamento che partirà a giorni. Quindi abbiamo sempre trovato una buona collaborazione per creare la macchina adatta alla stalla di cui avevamo bisogno. Un punto di forza che ci ha stupito da subito, anche con i modelli precedenti, è la miscelazione. Prima cosa che abbiamo notato, differenza degli altri, tra proprio la miscelazione, omogenea e soprattutto noi che lavoriamo con l'animale da carne facciamo anche miscelate piccole e abbiamo l'omogeneità anche nelle miscelate più piccole, a differenza, insomma, o grande o piccola che sia, la miscelata, se l'operatore lavora bene, la fa sempre correttamente. E l'affidabilità della parte strutturale sicuramente senza dubbio, abbiamo fatto la scelta di avere tutte le macchine equipaggiate con un motore FPT per assistenza comunque che la troviamo ovunque e quindi nel complesso la macchina c'è sempre soddisfatto in tutte le sue caratteristiche. Il risultato più eclatante è che noi possiamo dire oggi che abbiamo quattro siti e non abbiamo un carro di scorta. Questa è stata la grande svolta all'interno delle nostre aziende. Abbiamo il carro fermo perché prima o poi si romperà quello che ho diritto tutti i giorni, l'abbiamo superato con l'assistenza, gli italiani programmati e tutto un sistema organizzativo fornito dall'affare CIN per quanto riguarda l'assistenza e la programmazione dell'assistenza, quello che ha fatto una grande differenza. E noi dei fermi macchina obiettivamente qualche ora può capitare, cose proprio irrisorie. E questa è stata una grande differenza. Grande vantaggio ce l'ha dato nei tempi di carico della macchina, sicuramente molto prestante. Manovabilità ha un sistema che subito ci aveva un po' spaventato, perché la macchina è lunga, perché la macchina ha la strezza su quattro ruote. In prima partita ci aveva un po' spaventato, ma in realtà ho visto che gli operatori ci hanno preso bene la mano e le utilizzano senza problemi e poi il sistema che si regola la velocità, i giri del motore rispetto alla velocità delle coclee, un grande risparmio di incarburante. Quello l'abbiamo notato. Allora il NIR, vi dico sinceramente, in prima battuta credevo che era una cosa in più, uno sfizio che ci vogliamo togliere. Abbiamo detto che abbiamo quattro siti, un controllo in più non fa mai male. In realtà, utilizzato correttamente, abbinato alla macchina, ci ha dato la possibilità di stabilire veramente quali sono i metodi corretti della miscelazione delle nostre miscelate nei tempi e nei modi di carico delle macchine, dei prodotti. E quindi quella è la prima cosa che abbiamo notato. E quindi noi possiamo dire che i nostri animali mangiano tutti i giorni la miscelata uguale. Un'altra cosa, visto che il NIR si può utilizzare anche staccandolo dalla macchina, ne facciamo un buon uso specialmente nei momenti dei raccolti, degli insilati e quando compriamo delle farine esternamente possiamo fare dei controlli di qualità sui prodotti che entrano in azienda.